Tredicesima stazione Gesù muore sulla croce Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo Dai Vangeli Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Alle tre Gesù gridò a gran voce Eloi, Eloi, Lema, Sabattani Che significa? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, affinché si compisse la scrittura, disse Ho sete Dopo aver preso l'aceto disse Tutto è compiuto E gridando a gran voce Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito Detto questo, spirò Egli non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha consegnato per tutti noi Maltrattato si lasciò umiliare E non aprì la sua bocca Signore, ascolta la mia preghiera E il mio grido giunga a te Signore Gesù Cristo Che dal seno del Padre Sei disceso dal cielo alla terra E hai effuso il tuo sangue prezioso In remissione dei nostri peccati Ti supplichiamo umilmente Che nel giorno del giudizio Possiamo ascoltare presso la tua destra Venite, o benedetti Tu che sei Dio E vivi e regni con Dio Padre Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli dei secoli Amen Attraverso te Otteniamo la salvezza Dalle ferite di Cristo O Santo Gesù Dammi di ottenere La palma della vittoria Signore, ascolta la mia preghiera E il mio grido giunga a te E il mio grido giunga a te E il mio grido giunga a te E il mio grido giunga a te